Mi sono offerta volontaria per fare il turno di notte in ospedale. Così non faccio danni, ecco. Non posso fare macelli. Dormo, lavoro, vado agli incontri e guarda, bevo solo limonata. È quello che dicevo. Devi stabilire una routine, una cornice in cui collocarti. E incontrarsi in un bar tra alcolisti anonimi? Ci sta nella cornice? Non mi ha mai fatto paura entrare in un bar. Quando bevevo lo facevo da solo in casa. E devi stare per forza da solo nella cornice. Ti vedo agli incontri, ma non so niente di te. Non so nemmeno quale sia il tuo lavoro. Beh, perché non è un mestiere interessante? C'è qualcosa in te che non riesco a capire. Ma non c'è niente da capire, te lo assicuro. Sono un tipo semplice. Scusa, compro le sigarette. Vendete sigarette? Sì. Queste. D'accordo. Ho solo questa. Vedo se ho da cambiare. Devo andare. We're Мы- Vendete si passa. Vi- 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 Ki- Vi-